Il 26 luglio del 1921 nasce a Frascati alle porte di Roma Amedeo Amadei, uno dei migliori cannonieri della storia del calcio italiano. Icona della Roma degli anni 30 e 40, il Fornaretto, come era stato simpaticamente ribattezzato nella capitale, ha l'onore di debuttare con la maglia della Nazionale il 27 marzo del 1949, in occasione dell'amichevole contro la Spagna, vinta per 3-1 dall'Italia grazie anche al suo primo gol in azzurro. Da quel momento in poi Amadei diventa presto un punto fermo della Nazionale di Ferruccio Novo, ancora scossa dalla tragedia di Superbia. Dopo aver preso parte poi al Mondiale brasiliano del 1950, l'attaccante romano, ricordato ancora oggi come il giocatore più giovane che abbia mai esordito nel campionato italiano a girone unico ed il più giovane calciatore di sempre ad aver segnato in Serie A, conclude la sua esperienza in Nazionale il 17 maggio del 1953, totalizzando 7 reti in 13 presenze complessive.